Sì, ora dobbiamo essere bravi nel mantenere questa scia positiva. Allora giochiamo in casa davanti alla nostra gente, quindi speriamo di fare un grande risultato che ci serve per dare il via a questa salita. Siete un buon gruppo, siete una squadra vera, tu da qualche settimana hai trovato spazio da titolare in questa formazione. Quanto incide l'esperienza di voi più esperti con questo gruppo di ragazzi comunque volenterosi di imparare e di dare il massimo in ogni partito? Sì, siamo al di là di tutto comunque un gruppo molto giovane, però noi diciamo più anziani cerchiamo di dare una mano sempre ai più giovani che devono essere bravi a seguire noi, a seguire il mister e a tutti quanti. Il mese di ottobre che vi impone sei partite nell'arco di 30 giorni, ovviamente il pensiero a Lischia ma c'è naturalmente il pensiero anche a recupero con Manfredone di mercoledì. Sì, dobbiamo fare molti punti perché come abbiamo detto prima giochiamo in casa, dispiace per alcuni infortunati che purtroppo ci sono, ci sono stati, ci saranno, dobbiamo cercare di sopperire il meglio possibile a queste assenze, però diamo il massimo tutti insieme e cerchiamo di portare ogni volta il massimo a casa. Grazie. 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 Grazie a tutti.